come stai? come stai? ci vuole ben altro! come stai? guarda questa è la nostra youtube! ti ha fatto male? no sto benissimo! sicuro? non l'hai sbattuto? hai fatto un bel botto? qua solo qui c'è la bicicletta che l'hai sbattuto faccia faccia spalla hai sbattuto la spalla lì? tutto ok tutto a posto? sicuro? ha fatto un santo! l'ha ripreso qua? si! l'ha ripreso pure! ho distrutto il parapango! che è qua fatti vedere un attimo se stai fatto male davvero? no questo l'ho distrutto il parapango ma che lo ti ripara? metti una fascetta sotto e due rivetti catena scivolata ma niente di grave! stai riprendo? ma questo dove vedi su youtube fai esordio questo questo è un striscire no si è poverissima quelli che fanno se sarta vuoi e dietro qua! è buato! comunque hai visto neanche un danno! infatti ho detto non vedi come è matta la conoscevo sarta ho detto se volevi far sarto l'anno perché non l'hai visto? l'ho visto solo che per pensavo di poter atterrar bene! ma hai già visto mezzo strada su con l'altra discesa? sei sei stato dritto lì! ho detto guarda questo! ho detto boh vabbè! pensavo ad andare a prendere l'altra strada! comunque sono qui per divertire! guarda lui interessato lì! ho perso il parafango! no vabbè quello ti ripara dai! tranquillo! ti ripara! no lo tocca un altro che si rompe! quello ti metti un pezzettino al lamierino sotto! due rivetti è finito! lo tirava un po' su! che non c'era cascavo bene! che non c'era cascavo bene! gomma a terra? no no! sento scoffiare! no no queste cose sono grilli! questo suono è un grillo? si sono dei cigali! vieni a sentire un po'! se sei qua non puoi venire giù a cannone! no! ci puoi venire per a dire che non usci! senti! si può? no no! allora cos'è questo rumore? no! non è io! guarda questo posto è da là! posto è da là! guarda un po'! mi ha la gamba? no! sto benissimo! sicuro? guarda! c'ho ancora l'energia! lo vedi? sono inistruttibile in poca parola! ho fatto buoni peggiori! te l'ho detto che San Pedrino! Mike! non è niente a confronto a me! sono fatto di resistenza! fai ok? fammi vedere ok? eh! guardate la camera! tocchè tocchè! a poco! no! no! vaca! vaca! e non lo faccio a tornare a casa! lui la fa... forse non lo faccio! non lo faccio più! non lo faccio più! bufiu! che ti sei perso oggi! dai! dai! aspetta se non stai via questa! va bene un attimo! appoggio giù! ma devi riposare? no! sto benissimo! sono andato pure a sbattere contro una parete una volta! una volta? quando avevo sei anni! ho spaccato quattro cratere così e ancora sto in piedi! l'unico problema era solo la mano sinistra! ma davvero! perchè hai sbattuto contro una parete? i freni non funzionavano! ah! 23 minuti! ma la bicicletta! si! ah! 23 minuti di ripresa! quanto? 23 minuti di ripresa! 23 minuti di ripresa! ma non ha già distrutto il parapacco! 65 euro di parapacco! no! 65 euro! 65 euro! si ripara quello! mi ci metti la colla! no! che colla! no! quello! guarda! ci dà il nostro adesivo con me! no! no! ci metti un pezzo di plastica! gli fai una piega così! gli la metti dietro! attacca! e basta! prima lo devi pulire tutto! con il scartavitri un pochettino! così la colla attacca meglio!